oggi vi voglio condurre attraverso l'arte greca antica alla scoperta di un vero capolavoro l'olpe chigi è un vaso che serviva ad attingere e versare i liquidi in particolare il vino fu ritrovato in una tomba etrusca vicino a veio si tratta di un vaso venduto in etruria e o donato a qualche potente signore quasi come campione a dimostrazione dell'abilità degli artigiani di corinto in esso ritroviamo tutte le tecniche usate allora nella decorazione delle ceramiche incisione policromia e pittura su sfondo scuro il vaso è aggraziato forse un po troppo carico nella decorazione e mancano i collegamenti tra gli elementi della composizione nonostante ciò è una testimonianza molto interessante perché riassume tutte le iconografie usate a corinto distribuite tra quattro fregi figurati il primo rappresenta due schiere di opliti che al suono di un flautista fanno dietro fronte più lontani si affrettano al centro i più vicini vibrano le aste nel modo in cui sono accuratamente descritte le armi interno e l'esterno degli scudi dalle rappresentazioni terrificanti emerge l'immagine della potenza di corinto nel secondo freggio appaiono dei cani che inseguono vari animali nel terzo il giudizio di paride una caccia cruenta un leone un carro e una schiera di cavalieri una sfinge con due corpi araldici e un solo volto nel quarto freggio ancora scene di caccia cani che inseguono lepri cacciatori carichi di selvaggina che nascosti oltre i cespugli cercano di sorprendere gli animali l'artista che l'ha decorata resta anonimo ma possiamo sicuramente dire che ci troviamo di fronte a un capolavoro di pittura policroma e chi l'ha fatto era un miniaturista di grande maestria gli sono bastati infatti solo 5 centimetri di altezza per rappresentare il movimento degli uomini in battaglia una scena davvero ricca di dettagli in cui trova posto anche la natura dei cespugli agitati dal vento in cui si nascondono gli uomini intenti nella caccia alla lepre se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando